Il mio impegno nel Ponente insieme al Municipio è per una solida riqualificazione ambientale e sociale. Solida perché? Perché abbiamo investito 23 milioni lungo la fascia di rispetto di Pra, la cui viabilità è stata rivoluzionata e cui abbiamo dato vita ad un parco con pista ciclabile e piscina. 8 milioni e mezzo sono stati destinati alla messa a sicurezza ambientale della Val Cerusa, come con la strada per Campenave che ho inaugurato a novembre 2016 per valorizzare il nostro introterro. Continueremo quindi ad avere a cuore i quartieri del Ponente, a voltri ora al mare balneabile e impreziosito dalla passeggiata Bruzzone. È stata inoltre rinnovata Villa Duchessa de Galliera, così come Pegli, dove è stata valorizzata Villa Paravicini. Si deve quindi perseguire l'obiettivo di estendere la nave Bus dal lungomare di Pegli a Pra per collegare tutto il Ponente al porto antico. Il cuore di Genova per noi in ogni quartiere. Sono il candidato a sindaco per Genova per il centro-sinistra. Se anche tu ami la nostra città, il 25 giugno vota Gianni Crivelli.